ciao a tutti oggi prepareremo la salsa barbecue il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono cipolla ketchup pepe zucchero di canna aceto di vino rosso paprika salsa monchester e sale fino andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'aceto il ketchup la paprika lo zucchero di canna la salsa porchester il pepe e il sale ed azionare il bimbi per dieci minuti 100 gradi velocità 3 la salsa è pronta trasferire in vasetti di vetro lasciare raffreddare e riporre in frigo per almeno sei ore prima di utilizzarla salsa barbecue si conserva in frigo per 15 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti a tutti